Buongiorno, oggi è primo, mi tanti auguri e una bellissima giornata, a me, però al sole è una bellissima giornata. Non andiamo a fare colazione, no? Anche se è ora di pranzo, praticamente. No andiamo a fare colazione. No andiamo a fare colazione. Facciamoci una foto. Ma dove? Qui? Sì. Arrivati a Gubbio. Adesso andiamo a vedere la piazza dove hanno girato Don Matteo. Ok, se non ci ricordiamo male questa dovrebbe essere la piazza, se non è questa ve la farò vedere. Piazza. 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 ragazzi noi abbiamo appena finito di giocare a carte siamo stati in casa in compagnia niente di che e niente ci vediamo domani come abbiamo aggiornato anche se non penso faremo niente di che buonanotte buongiorno ragazzi oggi è 3 gennaio e noi stiamo lasciando la casa abbiamo dei sfatti verti adesso andiamo verso il scoleto andiamo a visita con la e quindi vi porto con me ok ragazzi arrivati a scoleto adesso andiamo a prendere le scale mobili per salire su al centro storico saluta il pubblico ciao pubblico di canale di martina ecco il duomo bellissimo bellissima proprio veronica fai un brindisite solitario brindisite solitario buongiorno 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 questo regno unito capitale Londra di 25 regioni allora 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 scopi terra grava bretagna scopi grava bretagna è tu scopi grava scopi corno agna grava bretagna io non ho capito niente manco io vabbè ma lei sta ripetendo non è più un iso stava bocciando poi è stato la grava per l'anglia che è di un iso che è di un iso no inizio 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 scopi corno vallia galles scosia rilandria l'unico scopi io inizio l'unico 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 scantino norvegia norvegia capitale ok spazio capitale stoccolma stoccolma adesso riprendo l'unico è c'è scritto piano 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 capitale più l'unico ah finno poi andiamo nella penisola iberica la penisola iberica prima portogallo isbona spagna madri francia qual è la parte più povera della francia sud no parigi 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 sud parigi sud c'è sta canna nizza nizza belgio brussel brussel paesi bassi come navia d'amore no come navia c'è romana berlino schissera berna stravia berna austria bernard colonia parzavia e c'è ancora c'è ancora c'è ancora slova chiama adesso non è lì è ragazza fraga e la ragazza ma cosa smetta slova 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 Poi c'è Montenegro e poi c'è la Croazia Ragazzi Gruppo Baccani Baccani ti chiamo alle folle Perché la te la sta prendendo di qua Quindi si deve sbrigare perché fa freddissimo Non ce la faccio più e sto morendo Ti odio tutti E' una burla Che burlone E' una burla E' una convinta di questa cosa E' bellissimo qua Io ho fatto il shopping Una salita a tutte le negozio Quella che noi non faremo Arrivo su al tuo amo Così al castello Scendiamo giù Che non è che era ripita e sciolosa Arriviamo giù e Malia ci fa Ma comunque stanno in scale mobili per salire E là? E là abbiamo fatto segretina Perché Alessio stava casciatica Quindi riuscivamo anche a camminare Segretina? Sarei stati gentili a dire segretina Sì Alessio è sempre male i casi Facciamo una ripresa di gruppo Ok sto riprende E siamo qui venuti in questo giorno del 4 gennaio Non mi riprendo Ah vabbè vai Solo il tutto mondo In questa bellissima cittadina di nome Spoleto Di cui stiamo vedendo il panorama Visto da sotto il castello Quindi c'è questo duomo spettacolare sulla sinistra Tutto la città qui sotto ai nostri piedi Conquisteremo il mondo Ai piedi della dea Eccoci al castello Buongiorno ragazzi Allora oggi è il 4 gennaio Scusate se ieri non sono riuscita a salutarvi Però sono andata subito a letto Perché ero veramente stanca Mi sono divertita tantissimo Questi giorni con i miei amici Però quando partiamo Ci stanchiamo Piuttosto che rilassarci Anche se Devo dire che quest'anno Ci siamo un po' Rigolati Ci siamo anche riposati E niente Spero che questi giorni insieme a me Vi siano Insomma Vi abbiano Fatto compagnia E Ho ripreso quello che potevo riprendere Anche perché Uno mi volevo godere i momenti E due Non mi andava di disturbare troppo Stare sempre con la videocamera in mano E niente Vi mando un bacio grandissimo Ci vediamo al prossimo video Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti